Sto marmo di rotenne, come tanti altri marmi sua, non è che l'ha lassata a metà perché si era stufato, o voleva proprio far così. Si chiama non finito. L'aveva usata come tecnica pure il grande Michelangelo, ma mentre là ancora non si è capito proprio bene il motivo, qui siamo sicuri, o faceva apposta. E in questo caso è poco azzeccato, a parere mio, perché te fa vedere sta madre con sta fia, malata, anzi morente, concentrarsi sui visi e sue mani soltanto, che a madre fino all'ultimo fa abbracciare sta fia che quasi quasi gli scivola tra i dita, e sta per scomparire, che a morte sa la porta via, per farla ritornare in quell'indistinto dove non c'è sta coscienza né individuo. Solo l'amore dà forma, e dice qualcosa che non sia il silenzio della materia. E mo mi ha zitto puro io, che sennò me vi è da piagni.